benvenuti alla settima puntata di genesis oggi faremo come al solito avremo un ospite alessandro de angelis come ospite e però deve faremo una deviazione dal percorso standard che abbiamo intrapreso come vi dicevo 77 puntate fa perché in realtà gli è accaduto lui ha partecipato a un convegno gli accaduto insomma gli sono accadute delle cose per cui volevamo raccontarvelo e oltre a lui stasera abbiamo un altro ospite che era comunque assistito alle risposte diciamo che ha avuto alessandro quindi ci faceva piacere insomma comunque farlo partecipare l'ospite in questione si chiama adriano scudella e insegna all'università di amsterdam infatti l'ho conosciuto prima dell'inizio della puntata mi face mi farà piacere insomma risentirlo nuovamente perché vorrò fare una puntata con lui in merito per l'appunto alla situazione che sta vivendo lui ad amsterdam e tra l'altro è un personaggio molto lo conoscerete un personaggio molto interessante perché insomma per i suoi studi ha viaggiato in australia è stato comunque vive a cavallo anche con gli stati uniti quindi avremo modo di risentirlo e sono sicura insomma che apporterà delle notizie interessanti intanto se non ha leonardo lisanti in regia se ci può fare entrare gli ospite benvenuti ad entrambi ciao carmen come adriano saluti a tutti i vostri teleascoltatori benissimo benvenuto veramente alessandro io ho anticipato i nostri a chi ci guarda i nostri telespettatori se si vuol dire così insomma che tu hai partecipato a un convegno attivo lì mi sono segnata puntata come si chiamava aspetta che lo dico diciassettesima settimana biblica attivo lì dove tu insomma alla fine dell'intervento hai le dovute domande insomma anche per in merito ai tuoi studi per avere chiarimenti un confronto eccetera e volevo un po che ci raccontassi la cosa sì allora era presente un professore nonché sacerdote il era la seconda puntata in cui trattava l'argomento su paolo di tarso e alla fine della puntata gli ho rivolto alcune considerazioni sulle nostre scoperte storiche che andavano proprio su paolo di tarso e che oggi vi riproporremo per farvi capire quello che ho detto siccome era con me anche era venuto da l'olanda a trovarmi il professore Adriano Scudella era presente anche lui quindi lascio un attimo la parola ad Adriano per farvi raccontare poi le sue impressioni sulle risposte o non risposte del professore della Pontificia Università alle nostre scoperte sulle nostre scoperte storiche prego Adriano Scusa Adriano un attimo prima che saluti volevo insomma sottolineare il fatto forse non l'ho detto prima che l'intervento era pubblico e voi avete fatto insomma una piccola registrazione che poi eventualmente metteremo in allegato alla puntata successivamente ovviamente poi magari la trasmettiamo a parte volevo solo chiarire questo aspetto perché magari uno può pensare che sia non pubblica la cosa No Carmen in realtà noi non sia io che Adriano non abbiamo ripreso niente ci sono delle persone che avevano fatto delle riprese gli abbiamo chiesto se gentilmente potevano magari mandarci questa ripresa sull'intervento che avevo fatto e quindi se ce la manderanno eh sarà nostra premura poi mandarla anche a voi per eh far ascoltare a tutti quanti quello che è successo intanto però Adriano era lì presente quindi chiediamo a lui eh le sue impressioni su quello che è successo su eh le risposte o non risposte del professore del Vaticano a rispetto alle nostre scoperte storiche che oggi vi riproporremo Bene volevo eh giusto precisare eh io in realtà mi occupo di informatica teorica eh prima ero all'università ora sono faccio anche il consulente per la European Agency quella del farmaco ehm e poi faccio altre cose negli Stati Uniti comunque lasciamo perdere questo allora eh ieri questo convenio qui eh aveva un una particolarità si parlava della prima lettere ai Corinti di Paolo di Tarso eh c'era il professor dell'università di Roma abbastanza conosciuto ehm e quindi lui eh commentava ehm la prima parte della della lettera ai Corinti devo dire eh devo dire eh che eh la maggior parte delle cose che ha detto erano molto parole una dietro l'altra peraltro lui stava anche leggendo però eh non ci interessa tanto questo ci interessa io sono rimasto molto colpito prima dell'intervento di Alessandro quando il professor ha detto esplicitamente parlando dei miracoli parlando di miracoli eccetera sì vabbè ma questi miracoli in realtà Gesù ha guarito un lebroso su cinquemila padre Pio ha guarito uno su quattromila quindi questi miracoli non è che siano proprio la cosa che a noi come cristiani interessa eh diceva lui ma la cosa importante che lui ha detto è che testuali parole Gesù era un medico che essenzialmente quello che va dicendo eh il nostro amico Alessandro De Angelis ovvero che eh eh Gesù faceva parte della setta dei terapeuti cioè di questa setta che eh a parte mettere le cose in comune eccetera eh eh appunto erano le persone che curavano eh ebbene eh questa è la prima parte ora passiamo al ad Alessandro Alessandro ha fatto un intervento relativamente lungo eh ha fatto prima una domanda a cui il professor Bass è stato molto gentile molto educato ha ascoltato tutto quello che ha detto ed è una persona molto diciamo a modo ehm e mentre Alessandro spiegava le origini di Paolo di Tarso noi sappiamo secondo le sue ricerche che Paolo di Tarso era ehm il nipote di Gesù eh poi ora ve lo spiegherà meglio lui e il professore qualsiasi cosa che Alessandro diceva quale che fosse la cosa lui annuiva lui annuiva cosa voglio dire eh io di teologi ne conosco tanti conosco tanti vescovi conosco tanti sacerdoti amici e personalmente queste persone ieri io sono ero Napoli parlavo con un amico sacerdote il quale mi spiegava può essere che io sono un poco borderline caro Adriano però negli ultimi tempi io mi sto convincendo che Gesù fosse essenzialmente un uomo un uomo grande o un leader diciamo ma essenzialmente un uomo ecco quindi per dire ehm le cose le sanno eh chi studia le cose le sa ecco a proposito io come mai sono qui con Alessandro dice ma tu fai l'informatico eh in realtà io mh sempre mi sono occupato di di esegesi bibliche ce li conosco benissimo parlo ebraico antico e moderno ho la fidanzata in israele conosco il greco il latino quindi ehm mi sono sempre occupato di queste cose ecco perché con Alessandro eh quando eh stiamo collaboriamo eh comunque in ogni caso ora lascio la parola ad Alessandro quello che volevo dire io riassumiamo eh velocemente è che in effetti le cose che Alessandro diceva erano confermate con l'atteggiamento del professor il quale diceva sì 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 e all'ultimo che risposta ha dato? eh ecco la cosa molto importante è che ehm lui ci ha detto ma sapete cos'è è che io purtroppo io non sono un esperto non sono uno storico sono un biblista lì io sono rimasto un pochino sorpreso perché anche se sei un biblista in ogni caso ehm le cose che ha detto Alessandro e i libri che ha eh ha citato Alessandro ovvero Vangeli canonici Vangeli apoglifi e Tito Flavio Giuseppe sono le cose che io Adriano a parte che sono rimasta perché io sapevo che tu parlassi cioè parlassi anche avevi studiato l'ebraico ma non sapevo poi quanto il resto quindi scoprò qualcosa di nuovo vabbè non si impara ma non si finisce mai di parlare se per questo di lingua io ne conosco dieci ne parlo correntemente seria comunque vabbè questa è un'altra storia ok io direi che ora lascerò lì ma è una cosa che un biblista non conosca la storia e non abbia studiato insomma allora Tito Flavio Giuseppe è portato sia un pochino sia un pochino tirato anche perché purtroppo poi il la la cosa era alle dieci e te già alle dieci e trenta di sera quindi si era un po' stanchi e lui doveva ritornare a Roma dopo quando è finito abbiamo parlato altri cinque dieci minuti però ovviamente si capisce anche io ho chiesto al professor se voleva fare un un dialogo con con Alessandro magari anche con te no sul canale o sul mio quello che è però lui ha detto ma forse sarebbe meglio parlare con uno storico e lui ha citato niente di meno che Giorgio Iossa che è il massimo storico italiano su Gesù solo che però Giorgio Giorgio Iossa forse non c'è più e quindi e con lui non si può parlare c'è senso molto molto ma io conosco bene i libri di Iossa in ogni caso ecco ora Alessandro io ti lascio mi sposto perfetto così anche dietro la lavagna che serve ad Alessandro e spero che vi piacerà come sempre eh vorrete solo dire una cosa ai nostri ascoltatori guardate Alessandro sa milioni di cose molte di più di quello io come stassi io eh mio eh devo insegnare bioinformatica quindi mi occupo di biologia stamattina parlavamo di biologia del dell'evoluzione del essere umano forse anche lì Alessandro ha molto da dire ehm bene eh con questo Alessandro a te io mi sposto così c'è la lavagna dietro casomai casomai interverrò ogni tanto ma ecco qua grazie a tutti e buon lavoro in chiusura se vuoi poi come ti ho detto ho anticipato anche diciamo privatamente mi farebbe piacere perché veramente certo certo come no come no ok grazie e enjoy enjoy the view ok perfetto grazie dunque parto dalla quando ho finito l'intervento ed era finita la eh la conferma il convegno eh con le domande che ho fatto in privato al professore e io ho detto caro professore eh nel Vangelo di Matteo quando i mangi andarono da eh a Gerusalemme per trovare per portare doni a Gesù andarono a Gerusalemme e incontrarono Erode e gli chiesero che erano venuti per adorare il re dei giudei ora una cosa del genere rasenterebbe l'inverosimilità se Gesù non fosse stato l'ultimo figlio del re Erode del Grande perché perché i magi dicendo che erano venuti ad adorare il re dei giudei avrebbero messo in discussione la regalità del eh re Erode del Grande che anche se era un re Bassallo era il re di Israele messo lì eh poi tra l'altro da Roma e li avrebbe immediatamente uccisi e lui ha annuito eh ha capito perfettamente e gli disse in realtà questi magi furono mandati dal re Archelao di Cappadocia la cui figlia Grafira sposerà ben due figli del re Erode del Grande prima Aristobulo che il re Erode del Grande uccise era un figlio di Erode del Grande uccise nel sette avanti Cristo insieme al suo gemello Alessandro e poi eh sposò Archelao che diventò etnarca fino al sei dopo Cristo quando fu rimosso per cattiva amministrazione dai dai romani avevamo accennato questa cosa in una puntata sì però mh diciamo non eh infatti eh questo passo di Matteo mi è sfuggito quando eh ci dice Erode rimase turbato da immagini perché è rimase turbato perché questi gli erano venuti a portare i doni e la moglie Maria Boeto era fuggita perché aveva cospirato per uccidere il marito insieme a Teuda che prese il veneno fatto venire dall'Egitto adesso invece andiamo sul percorso che ho fatto con lui perché sono partito siccome il convegno era su Paolo di Tarso sono partito proprio su da Paolo di Tarso per dimostrare che era un erodiano a tutti gli effetti ho iniziato leggendo lettere ai romani di Paolo di Tarso siamo sul libro i sicari dove Paolo di Tarso dice saluto i i familiari di Aristobulo salutate erodione mio parente quindi erodione vuol dire giovane erode e solamente gli erodiani avevano questo nome erode cosa sta dicendo Paolo di Tarso in lettere ai domani che lui è parente di un erodione di un personaggio che si chiama erode è parente e di aggiunto abbiamo fatto una comparazione per vedere se di Paolo di Tarso chiamato Saulo il suo vero nome era Saulo ne parlasse anche Flavio Giuseppe storiografo e io tengo a precisare una cosa ho usato Vangeli Canonici Vangeli Apogrifi e Tito Flavio Giuseppe per queste scoperte che ora vi sto illustrando punto quindi quando eh il professore mi ha risposto sarebbe opportuno che ti io sono un miblista dovresti avere un confronto con uno storico professori della Pontificia Università conoscono benissimo Vangeli Canonici Vangeli Apogrifi e soprattutto Tito Flavio Giuseppe da cui la Chiesa trae le prove per l'esistenza storica di Gesù attraverso il testimonio Flavianum e quando menziona Giacomo fratello Adelfosse di Gesù quindi eh a livello di eh confronto loro sono il massimo uno storico non potrebbe starmi dietro come mi stanno dietro loro su questo percorso se è plausibile una cosa del genere non è plausibile certo li conoscono infatti lui annuiva continuamente quando io leggevo i passi lettere ai romani tutte queste cose che adesso vi leggerò quindi sappiamo da questa prima informazione che Paolo di Tarso era imparentato con un personaggio che si chiamava Erode e che a quel tempo era molto giovane e gli ho detto guardi un altro personaggio molto famoso del nuovo testamento è Salomè colei che chiese la testa di Giovanni Battista su un bassoio d'agento figlia di Erode e di Erode e Salomè dopo che nel ventesimo anno di eh di Tiberio dell'imperatore Tiberio cioè nel trentaquattro morì suo marito il tetrarca Filippo altro figlio di Erode del Grande sposò Aristobulo e da questa relazione tra Salomè da questo matrimonio tra Salomè e Aristobulo figlio di Erode di Calcide nacque Erodione questo Erode che ci dice di questo Erode di cui ci dice essere parente quindi lui in lettere ai romani menziona saluto ai familiari di Aristobulo e Erode e mio parente Aristobulo non so se può ingrandire un po' la la lavagna Aristobulo era il cognato di Paolo di Tarso e Paolo di Tarso era lo zio di Erodione io ho menzionato poi eh negli atti quando volevano i giudei volevano eh uccidere Paolo si dice che il figlio della sorella di Paolo avvisò Paolo di quello che stava succedendo tant'è che eh poi arrivò il tribuno per questa sommossa voleva arrestare Paolo di Tarso e Paolo di Tarso gli fece presente di avere la cittadinanza romana dalla nascita. Ora la cittadinanza romana dalla nascita si aveva e il tribuno gli rispose io ho dovuto comprarla e perfino a caro prezzo perché non potevano processare chi aveva la cittadinanza eh romana non aveva questa questa facoltà il il tribuno che addirittura la dovete acquistare a caro prezzo. La cittadinanza romana acquisita si poteva avere solamente come discendenza appartenente a una famiglia molto eh in alto come lignaggio e il padre del re Ero del Grande Antipatro ebbe la cittadinanza romana che poi trasmise a tutti i suoi figli eh da Giulio Cesare dai romani furono proprio i romani a dargli la cittadinanza romana Marco Antonio lo mise poi lo fece re nel trentasette avanti Cristo e quindi Paolo di Tarso eh poteva essere essendo legato agli imparentato con gli erodiani ecco perché aveva questa cittadinanza eh romana tant'è che poi si appellò a Cesare durante eh il eh il processo che ci fu e lì presente c'era anche Agrippa secondo i re Agrippa secondo e Berenice di Cilicia che erano due fratelli figli del re Agrippa primo ed erano cugini di Paolo di Tarso Paolo di Tarso io ho detto era figlio di Erode e di di Erodiade fratello di Costobar e di Salomè un'informazione che ci dà lo storiografo titolo di Giuseppe è che Paolo di Tarso aveva un fratello che si chiamava Costobar bene Erodiade era la figlia di Aristopolo figlio di Erode e di Berenice Berenice era la figlia di Salomè sorella di Erode e del governatore dell'idumea Costobar da Costobar arriviamo a Costobar fratello di Paolo di Tarso perché questi nomi venivano riportati nelle loro generologie ora se fosse stato figlio di Erodiade e di Erode figlio di Maria Boeto e di Erode il Grande Erodiade era sorella di Agrippa Agrippa ebbe sì Paolo di Tarso era figlio di Erodiade Agrippa ebbe come figlio il re Agrippa II e Paolo di Tarso sarebbero stati cugini ascoltate cosa ci dice Tito Flavio Giuseppe nei suoi scritti da parte loro Costobar e Saul che in un altro passo di guerra giudaica ci dicono che erano fratelli raccolsero bande di malviventi tipo battata della Magliana loro stessi erano di stirpe reale appartenevano quindi a una stirpe reale e raccolsero favori a motivo della loro parentela con Agrippa ci sta dicendo che Costobar e Paolo di Tarso erano parenti di Agrippa ecco qui Agrippa era il fratello di Erodiade ecco perché era imparentato con Agrippa e il figlio di Agrippa quindi Agrippa era lo zio di Paolo di Tarso e figlio di Agrippa Agrippa II era cugino di Paolo di Tarso in un attimo tutto il quadro di prove è completo perché poi eh un altro fratello un altro figlio di Aristopolo e di Berenice era Erode di Calcide Erode di Calcide ebbe come figlio di Aristopolo di Calcide che sposò poi Zalomè che era la sorella di Paolo di Tarso da cui nacque Rodione guardate come è stato allacciato in un attimo tutto il quadro ma attenzione perché anche da ricordare sono ben dure beh e io ho sempre detto ragazzi è necessario leggere i nostri libri dove vengono riportate le tabelle e qui diamo qui le informazioni riuscite a capire tutto non solo Erode era fratello di Gesù figlio di Maria Boeto e Maria Boeto era la madre di Gesù e di Erode il Grande ok quindi Gesù essendo fratello di Erode padre di Paolo di Tarso era lo zio di Paolo di Tarso altro che non si conoscevano ragazzi zio e nipote ecco perché Paolo di Tarso costruì il cristianesimo su suo zio Gesù ecco l'incontro che poi avvenne sulla via di Damasco quando vide Gesù processo di vermiabilizzazione sotto forma di luce si convertì quando prima andava contro i cristiani sulla causa e per ora la causa di suo zio Gesù ma continuiamo a leggere Alessandro scusati posso intervenire un attimo proprio quando parlava di questo il professore disse ma Gesù non ha mai conosciuto Paolo di Tarso come l'ha detto questa cosa se l'è negato Alessandro sì sì ma il motivo è molto semplice Gesù dopo che fu sottoposto a processo per l'esa maestà per volersi fare re della Giudea ne abbiamo già parlato del processo si dovette dare alla latitanza quindi il cristianesimo fu costruito successivamente quando Paolo di Tarso per ora la causa di Gesù e io ho detto all'accio contatti con tutto l'impero con personaggi come Gallione fratello di Seneca altri consoli addirittura con Aquila e Priscilla Aquila fu colui lo riporteremo nel secondo libro oltre il velo di Iside che uccise addirittura Calicola in funzione antiimperiale per la restaurazione della Repubblica e addirittura leggiamo ancora da Tito Flavio Scusami Alessandro questo chi ebbe contatti Gesù o Paolo di Tarso? Paolo di Tarso Paolo di Tarso leggiamo ancora in Tito Flavio Giuseppe che praticamente ci fu Gessio Floro un procuratore romano prese 17 taletti d'oro dal tempio di Gerusalemme per pagare gli arretrati ai suoi legionari questo provocò un tumulto e una sommossa in tutta Gerusalemme da parte dei vengono chiamati Zeroti ma erano in realtà personaggi sempre imparentati con questi personaggi qui e a quel punto il procuratore Cezio Gallo ci dice Flavio Giuseppe mandò in Grecia da Nerone Saul suo fratello Costobar ed Antipa da Nerone dopodiché incontreremo Paolo di Tarso insieme a Pietro a Roma che furono addirittura accusati di aver incendiato Roma abbiamo le lettere tra Paolo di Tarso e Seneca le riportiamo tutte nei nostri liberi dove cercheranno di discolparli quindi ragazzi erano tutto quanto collegato a questo punto poi che cosa ho fatto? ho parlato al professore dicendogli il quadro quindi è questo Gesù era zio di Paolo di Tarso Paolo di Tarso era figlio di Erode figlio di Maria Boeto ed era Erode il Grande Gesù era figlio di Maria Boeto sempre ed era Erode il Grande e Tito Flavio Giuseppe ci parla di una cospirazione che avvenne ai danni del re Erode il Grande da parte di Maria Boeto ovvero la madre di Gesù perché Gesù fu l'ultimo figlio del re Erode il Grande e di Teuda che prese un veleno fatto venire dall'Egitto dopo di che gli ho letto i testi copti rinnovati a dicembre nel 45 a Nagammati dove nella seconda apocalisse di Giacomo si legge questo è il discorso pronunciato sto leggendo dalla seconda apocalisse di Giacomo questo è il discorso pronunciato in Gerusalemme da Giacomo Giusto è scritto da Maremma uno dei sacerdoti egli donarrò a Teuda padre di questo Giusto e noi abbiamo Teuda che prese il veleno dall'Egitto e cospirò insieme a Maria per avvenenare il re del Re Grande sappiamo che fuggirono poi in Egitto non a Betlemme perché è una profezia ripresa da Michea dall'Antico Testamento che diceva che il Messia il liberatore di Israele si avrebbe dovuto nascere a Betlemme ecco perché lo faranno partorire a Betlemme ma Betlemme era mi sembrava 18 chilometri di distanza da Gerusalemme figuriamoci un'ora di distanza a cavallo l'avrebbe subito presi Erode il Grande in realtà poi da qui l'angelo li avvisò e fuggirono in Egitto dove sono stati ritrovati questi texti copti annagammati sud del Cairo quindi in realtà fuggirono direttamente in Egitto e lì Maria ebbe da Teuda Giacomo fratello di Gesù non solo ebbe anche oltre a Giacomo Giuseppe, Simone e Giuda quattro figli più una figlia quindi sorella di Gesù infatti nei Vangeli non è questo il figlio del Carpentiere non è questa Maria non sono lì i suoi fratelli Flavio Giuseppe ci parla di Adelfos fratelli carnali lo stesso è Gesippo ci dice che era una fratella nella carne di Gesù non sono lì i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe chiamato anche col nome lenizzato Iose perché nacque da Alessandria d'Egitto Simone e Giuda abbiamo ritrovato la tomba di una figlia di Teuda tutti da Teuda tutti gli altri cinque figli da Teuda tutti da Teuda e questa figlia che Teuda ha avuto con Maria quindi sorella di Gesù ha lo stesso nome di una figlia che Gesù ha avuto da Maria Maddalena riporteremo il nome di questa figlia di Gesù di questa sorella di Gesù nel secondo volume del libro oltre il velo di Iside abbiamo dovuto comprare i libri di ragazzi che costano oltre 200 euro con tutte le tombe le frequenze delle attestazioni dei nomi le nostre ricerche sono talmente di nicchia che usiamo tantissimi libri introvabili e scritti io le potendo che fin tanto che si trovano va tutto bene il problema è che li stiamo facendo sparire man mano e quindi sono ricerche talmente di nicchia io capisco benissimo il professor Basta che dove poche persone riescono a seguirci e che possono solamente annuire dopodiché se non sono in grado di confutarci argomentando loro chiunque può venire chi vuole ma difficilmente potrebbero confutarci perché noi portiamo documenti storici e arcologici a supporto delle nostre scoperte quindi ragazzi concludo dicendo non possiamo parlare di cristianesimo ma di erodianesimo il cristianesimo è stato costruito su tutti i personaggi appartenenti alla famiglia del re Ero del Grande un pluriumicida che uccise Alessandro Aristobulo e Antipatro tre suoi figli per aver cercato di cospirare contro di lui ma poi Alessandro e Aristobulo neanche lo fecero era una sua paranoia una moglie una suocera uno zio accusato che lo accusò di aver avuto rapporti sessuali con una sua moglie uno stragificatore e ci siamo ritrovati davanti a dei personaggi su cui hanno costruito degli eroi mitizzandoli che in realtà erano tutt'altro e allora concludo rileggendo ancora da Tito Flavio Giuseppe libro di Sigari da parte loro costo Baressa Lull cioè Paolo di Tarzo raccolsero bande rimanti viventi loro stessi erano di sirpe reale e raccolsero favori a motivo della loro parentela con la grippa ma erano sfrenati e pronti a sfogliare le proprietà dei più deboli cioè ragazzi dei Robin Hood al contrario che rubavano ai poveri per donare a loro stessi cioè ai ricchi non è cambiato niente adesso se la montagna non va da Maumetto Maumetto è andato dalla montagna visto che si sono sempre rifiutati di confrontarsi con il sottoscritto adesso abbiamo un confronto su un convegno pubblico che è avvenuto dove le nostre scoperte storiche non sono state assolutamente confutate in nulla e dove mi viene detto di confrontarmi con una storica ragazzi speriamo di avere la registrazione qualche registrazione se ci manderanno la registrazione sarà nostra pevura farvela avere di modo che tutti quanti potranno ascoltare quello che è successo in ogni caso ovvio ho voluto che intervistasse anche Adriano ma è stata una bella conoscenza devo dire anzi se lo fa rientrare visto che siamo in chiusura vieni a Adriano sì sono qua eccoci ultima cosa che chiudo qui avevo creato la genealogia occupo la lavagna però sia Salome sia Erode erano figli di Antipatro Antipatro era sposato con Cipro la principessa Cipro che era cugina della regina Creopatra Cipro la figlia del re Tolomeo di Cipro fratello di Tolomeo dodicesimo a rete padre di Creopatra ecco perché erano cugine ed entrambi erano figli del re Tolomeo nono Tolomeo nono a loro volta era figlio di Cleopatra terza e Tolomeo ottavo e vergete trifone e in una lettera valo di tarzo dice saluto trifone e Trifene e Trifosa Cleopatra e Trifene tra l'altro era la madre della regina Cleopatra d'Egitto quindi tutti i personaggi tolemaici li abbiamo ritrovati addirittura a Berenice sotto la tomba di Gesù Gesù che è saluta a Marta e Maria Arsinoe tutti i nomi di principesse tolemaiche discendenti da questi qui con cui si erano imparentati ma a questo punto signori questo Gesù era discendente da una nonna paterna principessa tolemaica e da una regina nonna materna la regina più famosa d'Egitto la regina Cleopatra settima un abbraccio e un saluto a tutti quanti ti lascio salutare da Adriano intanto su questo ci ritorneremo perché gli intrecci sono abbastanza nuovi quindi sicuramente per fissarli dovremo e Adriano che dire se è stata una buona sì sì non è che ci sia molto da dire devo dire perché intanto ecco un'altra cosa che io invece vorrei dire è questa io capisco che le cose che dice Alessandro sembrano apparentemente complicate semplicemente perché c'è da seguire la storia cioè queste genealogie tutti sti nomi erode di qui erode l'aere il grande erode il piccolo eccetera poi attenzione guardate nelle nostre famiglie no c'è il nonno che si chiama Francesco poi il papà che si chiama Antonio e poi il nipote che si chiama Francesco e poi l'altro nipote che si chiama Antonio eccetera essenzialmente qui quello che sta dicendo è la stessa cosa no erode sì sì erode il piccolo cioè il figlio di erode fratello di Gesù il papà si chiamava erode e poi c'era Antito poi c'è questi Cleopas o Cleopatros o Cleopatras che sono in greco eccetera quindi io vorrei esortare le persone a non annoiarsi diciamo quando Alessandro inizia a fare tutta sta cosa ma cercare invece di di capire quello che dice poi io devo dire che ovviamente a prescindere la mia conoscenza per hobby mio personale cioè per interessi personali devo dire che quando iniziai a collaborare con Alessandro poi quando iniziai a leggere i suoi libri ovviamente ero in grado di capire meglio quello che diceva e anche di fare delle domande a lui che possono essere chiarificatrici per i lettori ecco questo qui vorrei dirvi forse anche comprare i suoi libri è una cosa interessante per chi perché sui libri ci sono comunque delle tabelle più più mediate insomma almeno quindi è più semplice io sui suoi libri ho preso appunti eccetera quindi io ce li ho tutti sottolineati scritti a matita cosa una cosa incredibile è qua perché ho letto un commento ma non ho avuto modo di rispondere per tempo mi dovete perdonare perché mi hanno detto ti occupi di economia però fai queste puntate dove distruggi non economia faccio informatico teorico è un commento che era rivoltato in realtà cioè tutto voglio dire i mistici prima studiavano un po' tutto e collegavano tutti ah dicono che siccome uno fa l'informatico teorico non può non può conoscere l'ebraico nel senso che comunque mi fai vedere Genesi per favore Genesi interlineare guardate qui cioè noi siamo una massa di pazzi cioè se se voi non credete cioè questo questo è uno dei libri che sia Alessandro che io abbiamo è uno dei questi questa qui è quella la Genesi interlineare vedete qua qua c'è scritto Bereshit Bereshit in ebraico ecco se noi apriamo questo libro questo lo si studia all'università questo libro qui ecco diciamo vediamo qui l'ebraico dalla parte dalla parte di qua poi il testo greco il testo latino e il testo italiano e ora io ve li voglio cioè noi siamo talmente costa un sacco di soldi questo libro e si ha Alessandro che non c'è nessun intento di distruggere nessuna religione ma semplicemente di fare scuola semplicemente ci piace poi come appunto io in Israele ci vado molto spesso ora non più per ovvie ragioni non mi interessa diciamo la massa di assassini quindi e come dicevo cioè io mi occupo di queste cose vado a conferenze scrivo anche delle cose in questo senso per cui diciamo non è che ecco se voi pensate che magari delle persone come il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi va sparando scemenze sul fatto che la massa si toce eccetera oppure che se vai con la macchina a 30 all'ora il patriarcato eccetera ebbene allora perché Parisi potrebbe parlare di queste cose dovrebbe parlare solo di fisica lasciampe perché gli è andato in premio Nobel perché le teorie del caos quindi perché appunto si devono previare va bene allora noi non vogliamo fare una puntata troppo lunga io spero di rivedere esatto con Alessandro ci rivediamo senz'altro quindi la speranza prossima puntata e andremo su ancora sull'Antico Testamento svelando i personaggi anzi la storia che c'era dietro il libro Apocalisse e che dovevamo parlare oggi quindi abbiamo fatto questa piccola interruzione però era dovuta un abbraccio a tutti e un saluto un abbraccio a tutti salute ciao Adriano